I pensionati scendono in piazza. Martedì mattina la manifestazione a Salerno per chiedere aiuto. Le pensioni restano le stesse, mentre il costo della vita aumenta a dismisura. Tutti i giorni si registrano costi più alti anche dei beni di prima necessità, portando a numerosi sacrifici da parte di chi non riesce ad arrivare neanche alla seconda settimana del mese. E per questo i sindacati, a fianco dei pensionati, insieme a Feder Consumatori, temono che in questa situazione possa approfittarne la criminalità organizzata. I manifestanti hanno incontrato anche il prefetto Francesco Russo, dimostratosi disponibile nell'istituire in tempi brevi un tavolo tecnico per fare un trade union con la regione e gli altri enti locali. Il segretario generale della SPICI GL Campania, Franco Tavella, illustra così la situazione che i pensionati stanno vivendo. La piazza per dare una mano e per tentare di venire incontro a centinaia di migliaia di pensionati che con una pensione di 600 euro al mese devono traguardare tutte le spese che ci sono a fronte di una condizione che ha un'inflazione dell'8% e basta entrare in un supermercato per vedere che cosa sta succedendo. Ci sembra utile ed opportuno che si venga incontro a queste persone e che si risolvano i problemi prima che vadano in una fascia di povertà assoluta centinaia di migliaia di pensionati in questa regione. Chieste dunque azioni concrete e urgenti che possano aiutare chi è in difficoltà ed evitare che la situazione precipiti in un clima di crisi che al momento sembra non avere alcuna risoluzione.